Vincenzo Cesario, Presidente di Confindustria Taranto, l'innovazione, ormai senza innovazione non si può fare più nulla, quindi è un processo alla base di tutti i futuri programmi di sviluppo? Assolutamente sì, noi cerchiamo di declinarla in ogni dove, in ogni modo, tant'è vero che oggi accogliamo con favore questa iniziativa voluta dal team di digitalizzazione di Confindustria, dal Dipartimento del Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni per festeggiare il connubio fra le esigenze e le possibilità di automazione e innovazione della pubblica amministrazione con il privato, con l'esigenza della produzione, al fine di mettere in campo tutto ciò che è possibile per migliorare la qualità della vita dell'individuo all'interno di una smart city e di una smart factory. Ecco, sul nostro territorio c'è molta strada da compiere in questo senso? Sì, sicuramente sì, purtroppo abbiamo da colmare dei gap, crediamo comunque che l'amministrazione della nostra città, vedo in sala, oggi abbiamo in sala molti sindaci, purtroppo non era presente l'amministrazione comunale di Taranto, ma siamo convinti che anche loro avranno volontà e possibilità di togliere tutti gli strumenti che sono messi in campo sia dal team di digitalizzazione che dal sistema Confindustria 4.0 per proporre dei servizi che vadano a migliorare la vita dei cittadini.